Questo, questo, oh ciavoli, siete troppi di bruxè, tutti giù per terra, te fanno i trenini, agi robo d'acciaio, girati, sempre con ste mani eh, scappa, famus Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Fortnite con voi Vincent e oggi siamo con queste sfide Magari farò anche le sfide con le manedizioni creativa, magari, tant'è che vi devo dire la verità, queste sfide tipo raccogliere monete e delle zucche in qualsiasi isola in evidenza Non avevo capito a cosa si riferissero in evidenza, cattio è isola in evidenza Sono le isole che si trovano, ovviamente, nella modalità creativa, che lì troviamo le isole in evidenza, infatti, come dice appunto la sfida Maniero del potere, che altro sta a punizione, inoltre c'ho questo personaggio che è una bomba, veramente, troppo bello, agente del caos Per chi ha visto My Hero Academia, non so perché, mi ricorda tantissimo il One for All Però, più che altro, senza maschera A dire la verità, assomiglia anche allo Slenderman, dato che è pure magro Voglio cercare di finirle tutte, voglio assolutamente sconfiggere il re della tempesta, così almeno c'ho questo bellissimo Ombre Loop Bella la lobby, veramente, mi piace troppo come l'hanno fatta Certo, con la pioggirellina, ma il problema è che così ci continuiamo a bagnare Ok, incominciato Quello è il mostro Ed è bellissimo Ma che bello Intanto quei raggi mi ricordano tantissimo Il Mecha Salve Se qualcuno se ne va i pesci Vi guarisco io E vieni qui Oh oh No Che fai? Che sta facendo? Aiuto Oh Lo salvo io No, lo salvo io Oh Sti maledetti Oh, sti cacchio Comunque, se ve lo stesse chiedendo C'ho ancora il joystick mezzo scassato Quindi statevi bene Vai Dove credi di scappare? Con qui Madonna santa Guardisco io Tutte e due Ah No, fuori Non uscite No, ma non li portate qui Scemi Olè Oh oh Sbaglio o sta puntando a me Oh Oh Questo mi lancia le cose appresso L'anima tua E state fermo Ah 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 Wow Oh salve Ti è incastrato? Girati E girati Eh cavolo Occhio al cielo Bomba Bomba Ah No Via Via Lo devo guarire Assolutamente No No dove lo lancio Ragazzi Aiutatemi No Maledetto No No dai No No raga Aiutatemi Eh Ti metti in mezzo Che cacchio ne so Ti sai girare? No Ti sai girare? Ehi Ti sai girare? Ma manco per il cacchio che ti sai girare? Mi fai cacch***e? Eh Questo te lo dovevo dire Ah Buongiorno Via Ragazzo Dovete tenere a bada I maledetti mostri Perché sennò col cavolo che riesco a riparare No 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 Ok C'ho ancora lo scudo C'ho ancora lo scudo Ok Ce l'ho fatta Madonna Madonna E chi è più forte di me? Sì Mostra Vedi che muoio Bellissimo deve essere Grazie della pazienza che a vita ha avuto Buongiorno Ed è caduto Cioè voi mi dovete spiegare come cacchio ho fatto a cadere Grazie mille Grazie Ma molte grazie Nel momento in cui l'ho messa la torretta Non so com'è Il mio personaggio è caduto È balzato Sapete com'è E manupro Ucciso Bestiale Ole Come finire al meglio questa partita Grazie mille Non so perché nella mia testa stavo dicendo Ma sarà una buona idea mettere la torretta Non manco il tempo di provarci Manco il tempo di sparare un colpo Beh E se togliessi la mano da lì l'anima tua Quanto è fastidioso sto mostro Oh cavoli di Di bruxè Siete tanti Ma davvero tanti Quanto Cioè che Posso dirlo Che c***o La cosa brutta è che me ne sono accorto tardi Sì magari se qualcuno mi venisse a dare una mano Eh grazie Sì se ti riparassi Ma vabbè va Se ti ammazzano È davvero un bijou eh A posto Di nuovo atterrato va Tutti a terra vai Tutti giù per terra Uè Dove te ne stai andando Sì dovremmo sfracassare Bravi Ma bravi L'anima vostra Ehi sta buono Sembra un genio della lampada Solo che invece di essere sbucato dalla lampada È sbucato Sai dove Dalla terra No è inutile Ci sono troppe Siete troppi Dai ragazzi Ah Madonna Mi ha fatto cagare sotto questo Eppure tu eh Non sei da Sì Wey E che Tutta addosso a me Ah 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 Ambe di questi Ehi Tutta la combricola è venuta Ah No dai no Questa è sfiga proprio Ma ha preso la spro Ciccio Ciccio Cosa stai facendo Sei proprio sicuro di quello che Ah Meno male Ma cosa fa Non ci posso credere Cioè io non ci posso credere Ma fra tutte le persone Ma uno che ragiona bene Uno Si vede che sta buerm Non solo dal nome Che c'ha Tre z La fine Mi faceva pensare veramente Mo devi vedere che farà lo s*****o E così è stato Vabbè io l'ho sempre detto La gente In sto mondo ormai Non so come ragiona Se ragiona con la testa Con che cosa ragiona Qualcuno me lo può spiegare Ma io dico Ma l'albero Si doveva trovare proprio lì Sì sì Grazie grazie mille Grazie Io con che cosa dovrei combattere L'immortalci tua Ve lo dico eh Io non avrò manco un'arma Non ho un'arma Grazie Molto gentile Poi ditemi voi Se uno non dovrebbe bestemmiare Dinanzi a voi Comunque non lo so perché Ma questi punti deboli Che dobbiamo sparare Mi ricordano Tipo Resident Evil Si sta Poi se non spariamo manco I punti deboli Voglio proprio vedere Che cosa concludiamo Ah va ha fatto Michael Jackson Ok ragazzi Se qualcuno c'ha qualcosa Per medicarsi La dia a me Perché sto senza vita Letteralmente Raga Qualcuno mi medichi Qualcuno mi aiuti Sono senza vita Nessuno c'ha niente Non ci credo Ma è bestiale Come io Sto rimanendo sempre con 3 di vita Ma tanto io non riuscirò a vivere Ah lungo C'ho pochissimi colpi Quindi Ma Sono cavoli miei A quanto pare Vero No no Vaffan No vabbè Dai raga Non basta che c'avevo già 3 di vita Di base No mi doveva pure colpire il mostro Conti deboli Ma pericacchio Questi mi sparano No dove te ne vai Imbecille Dove vai Imbecille Ma quanto si fesso Vogliono essere aiutati E se ne vanno Oh Ma non fatevi colpire Sennò sono cavoli amari Quando vi dobbiamo E buonanotte Ah Questo ci lancia le pietre E poi Pum via con le pietre Ah va Quanti bei Wow Quanti bei Wow Ah 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 quanti bei mostri Bei mostriciattoli che siete Ah gigrobo d'acciaio Ah ma l'ancora dobbiamo fare Madonna santa Mi ha dato un ceffone Oh E ci deve essere sempre uno che deve rompere però Girate Sì Grazias Ah già Chiamendo dove C'è sto Ah Una folla Una folla infuriata Ah Madonna mi stava per colpire Cioè se avessi continuato a camminare E voli ti non avrebbe colpito Beh vabbè Questo mo' se fa una roteata Che non riusciamo a colpirlo Manco di una virgola Lo chiamavano riccioli duro D'altronde C'ha pure delle cose duro Questo da mezz'ora Mi sta Inseguendo Quando la finirete Di darmi fastidio Sarò contento Buongiorno Che bella mano Vuole vincinque Scappamos No raga Ti aiuto io Tranquillo Ah guarda Uno di fila all'altro Te fa nei trenina Sì E vabbè Va M'hanno circondato Dai Ok Grande Piacere Sempre con ste mani Anche voi non siete da meno Oh ha perso un corno Raga Sono seriamente rimasto Solo No raga Sarà una battaglia inutile Sì vabbè Dai Non è possibile Che io stia perdendo vita così Ma come Dai No vabbè Non è possibile Questo si è pure Intastrato Sì vabbè Dai raga Ma vi colpisce A prescindere Ste Oh mio Non ci posso Credere Non ci posso Credere Tutta questa fatica Per cosa Mi colpivano Comunque Come dire Tu devi per forza morire Punti deboli Su punti deboli Su punti deboli E cos' Mick Moore E cos' 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 No, no, no.